di quest'anno di Saloniera, con dei conditi come il dottore Vittore Maggiunelli, la presidentessa dei festeggiamenti, la dottoressa Lombardi e soprattutto la nostra pananza FT. FT, quindi lei è una norvana doc, quindi San Paolino lo tiene nel cuore. Assolutamente sì, per tante motivazioni, per tante novità e mi auguro sempre che il percorso di San Paolino sia netto. Grazie Raffaele, grazie.